buongiorno buongiorno e benvenuti a questo nuovo webinar di formazione trading idee di trading con le opzioni con fabio abudioso questo è il titolo del video di oggi che avrò il piacere di seguire insieme a voi come prima cosa vorrei salutare e dare il bentornato direttamente dagli uffici di via massawa di milano al nostro fabio gaudioso ciao fabio come stai buongiorno non sto benissimo qualche linea di febbre ma sono qua con voi non potevo mancare un appuntamento con te grazie assolutamente ci fa molto piacere che hai deciso di dedicarci del tempo per condividere le tue strategie in opzioni le tue visioni di quello che il mercato è movimentato dagli opzionisti come sempre prima di passare la parola al nostro fabio vorrei condividere con voi i miei recapiti che vedete in questo momento sullo schermo prendete nota del mio cellulare di servizio che tra l'altro stefano ha inserito anche come sempre tra i commenti youtube 347 28 00 542 dove potete scrivermi anche adesso durante questa diretta le domande per fabio perché avranno precedenza pf 5 1 9 6 0 è il mio codice promotore voi sapete che noi consulenti finanziari di we bank siamo a vostra disposizione per assistervi nell'apertura di un nuovo conto e per insegnarvi a usare le piattaforma t3 per tutte le vostre esigenze di trading e se siete trader esperti e conoscete già le dinamiche delle piattaforme allora e possiamo insieme impostare la piattaforma t3 e renderla più performante per il vostro trading possibile ora vi condivido anche la nostra convenzione che è tuttora in corso che è la convenzione con un bonus trading di 100 euro eccola qua e la piattaforma di trading naturalmente gratuita apri il conto basta andare qui per aprire un conto in convenzione e quindi compilare tutti i dati richiesti al fine di evadere questa vostra richiesta di apertura conto intanto scrivetemi se va tutto bene a livello audio e video perché la mia connessione non è delle più stabili e se non si sente bene fatecelo sapere e ripetiamo tutto quello che si potrà perdere eventualmente a causa della connessione stavamo dicendo per aprire un conto basta compilare questo form che oltretutto è disponibile della nostra home page webank punto it e la sezione 3 parla dei codici codice convenzione webinar 22 lo sapete chi ci segue da un po di tempo è circa da primavera di quest'anno che abbiamo coniato la convenzione con 100 euro e sarà valida fino alla fine dell'anno codice promotore pf 5 1 9 6 0 per chi può avere il piacere appunto di essere seguito dalla sottoscritta per chi è nuovo vorrei condividere anche i dettagli per quanto riguarda il nostro fabio gaudioso dico il nostro perché è il risk manager di webank e quindi fa parte della sezione piattaforme servizi digitali e gestisce un compito molto molto delicato come quello della gestione margini sui vostri conti e quindi è tenuto ad intervenire qualora qualcosa non quadrasse fabio gaudioso è anche un formatore ma questo magari ve lo dice tra poco lui e ha una conoscenza delle opzioni smisurata sproporzionata ma anche questo lo sapevate già siete collegati qua mi dice in 75 quindi fabio tieniti pronto per gestire anche tutte le domande e prima di passarti la parola io ho preparato una brevissima parte teorica per farvi vedere come nell'attività dei market maker influisce sul eh andamento del trend di mercato nel senso eh quello che vedete è appunto eh il riassunto del delta gamma aging eh che è una tipica eh operatività di copertura dei market maker eh che hanno un compito abbastanza particolare non sono operatori normali tra virgolette di mercato eh perché la loro operatività non è finalizzata al guadagno non è finalizzata al profitto bensì alla neutralizzazione dei portafogli eh sui quali sono entrati allora qualunque persona ancora avesse dei dubbi circa l'importanza del mercato delle opzioni eh vi mostro questa slide che in realtà è il grafico della Goldman Sachs che ogni mese eh prepara i conti circa eh il controvalore di opzioni scambiato a scadenza mensile come potete vedere eh nell'ultimo anno quindi nell'anno eh diciamo della pandemia i volumi sul mercati eh delle opzioni sono esplosi quindi eh soltanto venerdì scorso è scaduto qualcosa come un controvalore di tre virgola quattro trilioni di dollari di equity options ecco perché anche chi non è un opzionista puro chiamiamolo così e necessariamente deve tenere presente di queste dinamiche che muovono i mercati eh delle opzioni eh perché ho pensato di questo fare questo piccolo inciso della teoria perché leggo eh diverse volte magari lo fate anche voi sul portale Bloomberg piuttosto che Zero Edge o altri canali specializzati di finanza evoluta questi termini che chiamano in causa il gamma il gamma trade il gamma squeeze piuttosto che il mercato gamma positivo come abbiamo avuto modo di vedere appunto nell'ultimo anno perché il gamma è importante è importante perché è la prima variabile che tengono in considerazione i market maker quando fanno il cosiddetto delta gamma aging e quindi eh quando fanno le operazioni di copertura quindi che cos'è il gamma in realtà il gamma è la derivata seconda del delta ovvero il delta del delta ovvero eh il delta è la derivata prima del movimento del prezzo il gamma è la derivata seconda e questo eh in pratica si traduce nella parte qua della curvatura del delta quello che vedete in questo momento è il grafico del delta di un'opzione call con sottostante un'azione quindi più eh è diciamo la curvatura è accentuata meno pericoloso è il gamma e più invece questa curvatura è ripida più eh il grafico del delta si avvicina alla riga eh verticale eh più il gamma è alto e quindi più il movimento anche più piccolo del sottostante determina il movimento più ampio e del delta eh per parlare del delta gamma aging dobbiamo partire dal delta aging che è eh un'operazione abbastanza tra virgolette antica che risale credo dagli anni ottanta a livello di operazione di copertura di portafoglio eh in pratica consiste eh nel neutralizzare il gamma del porta scusate il delta del portafoglio eh portandolo a zero quindi il delta di del sottostante ehm uno eh il delta di un'opzione coli in questo caso eh facciamo un esempio è sesso zero sessanta eh questo significa che se l'opzione controlla cento azioni compra vendendo una pole comprando sessanta azioni eh ho neutralizzato il mio portafoglio eh è questo punto eh di tangente tra il grafico della call e il grafico del sottostante è proprio il punto dell'edge punto della copertura eh il grafico della call è curvilineo perché prima della scadenza è curvilineo l'inclinazione di questa curva è determinata dal delta mentre appunto la curvatura quello che abbiamo visto prima è determinata eh dal gamma quindi più è orizzontale questo grafico della call più basso è il delta e meno poi il movimento sottostante influisce sul prezzo eh della 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 call stessa eh allora in quanto il delta del sottostante uno il gamma del sottostante zero e quindi eh siccome la cosa principale è quella di tenere sotto bada il delta appunto il movimento repentino per non ribilanciare troppo spesso eh questo portafoglio è interessante tenere appunto sotto occhio il gamma e e per neutralizzare il gamma è necessario acquistare un'altra opzione e col e sullo stesso sottostante con lo strike un pochino più lontano allora vedete che l'edge quindi la copertura di portafoglio rimane lo stesso a livello teorico perché c'è solo un punto dove la copertura funziona ed è per questo eh il delta gamma aging o solo il delta aging eh svalgono soltanto come approssimazioni per brevi periodi di tempo eh ma l'aggiunta del gamma aging comporta che queste diciamo linee di copertura sono per un tratto più lungo vicine al sottostante questo significa che la copertura sì che vale in un determinato punto ma ci sono tantissimi punti a destra e a sinistra dove la copertura è più o meno eh simile e quindi eh arriviamo al meccanismo di quello che appunto negli articoli che potete leggere sui vari canali finanziari è chiamato il golong gamma e allora si parte dall'acquisto di una call un Mario Rossi acquista un'opzione call che questo Mario Rossi può essere eh un gestore eh di un etf a rieplica sintetica per esempio che usa le opzioni eh per dare leva a a quello che è l'etf eh piuttosto che pensate ai certificati eh quanti poi appunto utilizzano le opzioni e per le varie barriere per i vari discorsi appunto particolari dei certificati stessi allora quest'opzione call eh gliela vende eh un market maker e appunto il market maker vendendo questa opzione si deve necessariamente coprire il discorso che abbiamo fatto prima e quindi si copre o acquistando il sottostante che di per sé rappresenta un'operazione che dà eh rialzista nei confronti del mercato oppure appunto compra una call con lo strike un poco più lontano e questa call con lo strike un poco più lontano gliela vende un altro market maker eh che a sua volta di nuovo si copre acquistando il sottostante piuttosto che acquistando una ancora più lontana e così eh fino al eh all'infinito e si potrebbe dire ed è questo il meccanismo che ha accompagnato il boost dei mercati eh nell'arco degli ultimi più o meno dieci dieci mesi appunto dalla primavera scorsa del 2020 eh quindi più di dieci mesi sostanzialmente eh e ha dato una spinta eh maggiore appunto a quello ha esasperato il movimento rialzista che ha eh avuto luogo appunto in questi mesi. I meccanismi di copertura quindi come vedete eh producono queste potenti forze direzionali eh che sono autoreferenziali eh e che prendono appunto questo nome di long gamma e short gamma. Il passaggio da uno scenario all'altro quindi da uno scenario long gamma come abbiamo avuto adesso eh a eventualmente lo short gamma è chiamato gamma flip quindi lo switch di una view da rialzista al ribassista e spesso comporta eh delle dei movimenti repentini sulle borse e avviene in vicinanza eh delle scadenze e quindi sarà curioso vedere eh a partire appunto da lunedì scorso in avanti come si comporteranno in questi casi in questo caso eh i market maker e gli investitori istituzionali. Bene ma passiamo dalla teoria alla pratica e quindi chiedo a nostro Fabio di eh intanto condividere lo schermo e iniziare un po' quello che è eh il tuo commento Fabio di questa giornata di mercoledì 22 settembre eh in vicinanza di un'importantissima decisione del FOMC stasera alle venti e come è posizionato il mercato Fabio? Allora intanto ribongiorno ancora ehm intanto la tua spiegazione molto tecnica è forse l'argomento più complesso che che potevi scegliere qualcosa di eh che richiede poi visto che c'è la registrazione eh si potrà riascoltare eh ricordatevi che il il gamma ha la sua importanza io quando insegno le greche durante le prime lezioni ai miei allievi eh sul gamma mi soffermo poco perché è un qualcosa di importante più a livello istituzionale nelle strategie eh per essere gamma esposti serve veramente una quantità importante di 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 opzioni. È la sensibilità del nostro portafoglio al delta quindi fondamentalmente si configura in questo. È difficile rimanere gamma neutrale, molto difficile perché fondamentalmente si rischia eh di continuare a fare degli aggiustamenti eh a rotazione su sul portafoglio. È un qualcosa che fanno ovviamente spesso e volentieri i grossi fondi proprio per mantenere la neutralità sul mercato e il controllo del gamma è importante. Poi ci sono le greche di ordine superiore che analizzano questo perché uno può avere un un gamma sotto controllo però poi nella realtà può non essere così sono il bomma eccetera eccetera che vanno a complicare. Tornando un pochino a noi io vedo di condividere il mio schermo. Esatto. Mentre condividi allora io comincio a salutare gli amici che sono collegati in questo momento in diretta Fabio che sono tutti in trepida attesa di sapere quello che hai da condividere con noi oggi. Quindi saluto Marco Sala, Dario Melchionni, Danilo Capelletti, Rodolfo, Filippo, Claudio, Paolo, Maurizio, un'altra volta a Paolo. Beh tutti quanti adesso non dirli tutti se no non finiamo più. Io ho visto un commento eh di di un bellissimo dicevo meglio l'aga di Pietro quindi eh ti preferiscono a Pietro. Ma grazie, grazie mille salutiamo Pietro intanto. Pietro e io voglio anche salutare Massimo e Giambito che ieri durante certamente tutti i grandi professionisti siamo tutti sulla stessa banca. Ok allora partiamo studio perché il tempo scorre e abbiamo tante cose da fare. Allora vedete io ho una pagina Word vedete la MNSP 500 dicembre mi confermate? Sì. Perfetto. Allora la prima cosa da fare sempre che io insegno è fare l'analisi. Cioè non bisogna lavorare né di pancia né così per istinto per i fondi di caffè bisogna fare le analisi. Le analisi si fanno la sera prima sempre. Se non siete eh non avete non avete grossa dimestichezza per fare l'analisi in serata perché purtroppo vanno fatte in tarda serata con i mercati chiusi le potete fare la mattina presto. Io preferisco svegliarmi un po' più tardi che eh che che la mattina molto presto ma è soggettivo. Questo questa è la fotografia di come erano posizionati i mercati a livello americano. Adesso io vedo di ingrandire un po' purtroppo il monitor è quello che è perché non sono nel mio. Mettiamo tutto benissimo puoi proseguire tranquillamente. Questa è la fotografia dei mercati americani alla sera del 20 quindi l'altro ieri quando l'SP valeva 4.348.25. Questo l'SP500 poi ovviamente eh a voi mh lascio assolutamente da chi ci segue qualunque richiesta volete il DAX volete il FIB li vediamo senza problemi. Adesso io mh principalmente parlo di SP perché è l'indice guida mondiale è il migliore di tutti ha le opzioni più efficienti del mondo apre a mezzanotte chiude alle 23 adesso hanno rotolto anche il piccolo eh gap che c'era tra le 22 e un quarto alle 23 quindi alle 22 e 30 quindi praticamente è sempre aperto. Ehm cosa ci dice questo? Ci dice come sono posizionati gli investitori istituzionali. Le opzioni sono uno strumento meraviglioso e letale quindi eh è un'arma a doppio taglio meraviglioso se utilizzato come copertura di eh portafoglio di strategie eh è uno strumento pericolosissimo nel momento in cui invece viene usato ehm a fini speculativi quindi si rischia di improvvisamente trovarsi in difficoltà. Faccio proprio un esempio io oggi parlerò anche di margine perché è fondamentale. Io eh visto che venerdì il mercato ha dato una bella bottarella chiamiamola così visto eh i tempi di continua salita del mercato alla prima discesa un po' decente di qualche punto percentuale del mercato l'uno è rotti e ha chiuso venerdì lunedì mattina eh molti si sono trovati margini esplosi. Perché questo? Io ho anche discusso con il fornitore risk interno perché su alcune cose ehm mi baso un po' sulla mia esperienza e non mi tornavano benissimo le cose fondamentalmente il margine è la vita del trader. Dovrebbe essere anche la vita del trader in future. Infatti io condivido tanto le persone che aprono e chiudono in giornata perché non si pongono un rischio punto di domanda di quello che può succedere al mattino dopo. Chi ieri sera è andato long overnight stamattina è rimasto contento perché i mercati hanno aperto a rialzo sulla notizia che la Cina eh ha dato un un una piccola apertura di credito sul sull'Ever che è il il case di questo momento ma il mercato non ha bisogno di un motivo per scendere se lo trova perché è vere mesi che c'è adesso è diventato un pochino la notizia ma di fatto eh può benissimo eh non succedere niente come può benissimo succedere qualche casino e avere il mercato andare dall'altra parte. Poi vedremo stasera come ricordavi te con la l'analisi cosa ci porta? Ci porta a capire qual è la fotografia dei visitatori istituzionali. Le opzioni con questo tipo di grafico preso da Bitrader sono opzioni vendute. Noi lo prendiamo A proposito salutiamo anche Denis scusami Fabio che di Play Options che è collegato anche a Dennis, Tiziano e Andrea e Max che è il loro programmatore. Salutiamo tutta la la combricola. Questa che è invenzione di Cagalli non è ovviamente ehm cosa mia lui è assolutamente un genio è l'evoluzione dell'open interest. Fondamentalmente queste barre colorate sono le opzioni vendute e al venti di settembre in chiusura avevamo questa fotografia. Le put fondamentalmente le hanno abbastanza seccate che vedete che la parte sinistra in arancione sono piccole barre più alta più è potente. Io osservo barre di almeno forza uno sotto forza uno non mi interessa. Questa è una struttura dove emergono forti vendite di call rispetto le put con un rapporto di forza abbastanza importante. Siamo in qualcosa come eh quattro cinque volte più o più a cinque volte superiori le call vendute. Ma noi dobbiamo individuare dove sono le aree più importanti. Quali sono le aree più importanti? La prima area che ci diceva eh rilevante era il venti quattromila tre settantaquattro barra settantacinque poi sono aree che hanno piccoli differenze. Il supporto due settantatré. Cosa vuol dire? Che il trader che fa l'analisi da sera prima e vuole o comprare o vendere non deve far nulla prima di questo livello o prima di questo livello. Punto. Poi se questi livelli si associano anche analisi tecniche quindi avete i vostri indicatori, super trend, supporti o resistenze orizzontali allora la cosa acquisisce maggiore significato. Perché questo? Perché queste sono le aree che i big, gli investitori istituzionali che hanno aperto posizioni difenderanno. Di quanto? Cinque, sei, dieci, cinquanta punti. Questo noi non lo sappiamo. Ma sappiamo che queste cose hanno una valenza, io l'ho statisticata, superiore al 90%. Usando un passo cinquanta. Cosa vuol dire il passo cinquanta. C'è un'opzione ogni cinque punti, vengono raggruppate ogni cinquanta punti. Questo crea una sorta di grafico settimanale e i time frame più sono alti più sono potenti. Quindi noi qui vediamo che è vero che 3,74,75 è la prima area ma vediamo che quelle veramente forti sono molto in alto. Addirittura sono in area di top storici. Queste sono le aree più toste dal 4,26 in su. Questa ha una forza leggermente sopra l'uno, ma non è paraleggiabile a questa. Cosa vuol dire? Che quando facciamo una trade, se vogliamo farla su questo livello, avrà meno efficacia di questa. Se è sotto forza 1 non la guardiamo neanche, ma abbiamo uno sbilanciamento importante sulle call. Attenzione, può benissimo ribaltarsi tutto dall'olge all'omani, non è una bibbia, ma è già un'indicazione. E oggi, oggi, questa situazione com'è? Com'è impostata questa situazione oggi? Nella giornata di oggi a me interessa relativamente poco. Perché? Perché oggi è ancora in costruzione. Essendo ancora in costruzione a me non interessa, salvo movimenti particolarmente violenti. Non interessa, a me quello che interessa è ieri sera. E ieri sera è successo esattamente questo. Così attacchiamo. Eccolo qua. Questa è la giornata 4 di 5, ovvero alla chiusura di ieri sera, con l'SP intorno ai 3,40 rotti. E la struttura, bene o male, è abbastanza simile al giorno prima come sbilanciamento. Ma se noi andiamo a vedere nel dettaglio dei livelli, riusciamo a capire se hanno aumentato o diminuito certe aree. Allora, se io vado ad osservare, ad esempio, il livello di supporto di 4, 2, 7, 3 rispetto al 4, 3, 7, 3 che sono i primi livelli, ne vado ad osservare l'altezza e l'attiva forza. Il 7, 3 era appena appena sotto forza 2. Ora, dopo la giornata di ieri, è ancora un pochino sotto, non è mutato più di tanto. Il 74 è intorno a forza 1,5, oggi ce lo troviamo leggermente più alto, vuol dire che qualcosina è stato venduta. Il 26, il 78, il 26 sfiorava il forza 3 ieri, anche prima era leggermente diverso. Quello che io vado a vedere è se è stata fatta una mutazione. Cioè, se io mi trovo a questo livello che improvvisamente cresce, allora so che hanno messo un ulteriore paletto, un ulteriore diga, un ulteriore materiale a una diga che già era persistente. Se sale la forza, vuol dire che troverà ancora più ostacolo, vuol dire che il mercato non vede il rialzo o non vede il ribasso a seconda se fa il carico da una parte all'altra, ma questo non basta, non è sufficiente. Ci serve un passo in più. Il passo in più, che è un passo essenziale, è l'analisi dei movimenti sulle opzioni. Qua l'asticella si alza tremendamente. Perché? Perché diventa un pochino più complicato, ma non è una cosa impossibile. La potete fare tutti voi questa cosa. Basta avere la piattaforma, se non ce l'avete chiamata l'aga che vi fa una demo per provare a vedere queste cose. In realtà, mi ricordiamo che avete un mese gratis dell'informativa sui mercati. Esatto, e a proposito Fabio, perdonami se ti interrompo, vorrei rispondere anche a Danilo, che chiede se la persona... Di P di Nasdaq, poi adesso vi li metto. Allora, la piattaforma T3 è in prova gratuita una sola volta, anche per chi ha già il conto, se non l'ha mai provata, ha il diritto di provarla. Sì, fondamentalmente lo si prova una volta. Avete un mese tutti i mercati in tempo reale, e poi avete, se non sbaglio, un altro mese dove i mercati sono... Altri due, sì, in delay. O due, in totale, adesso non ricordo bene. Però ecco, grosso modo avete un mese in realtà, in tutti i mercati in realtà, gratis, attenzione, che non è una cosa da poco. Dopodiché, ovviamente, considerate che anche se poi voi aprite il conto e non avete voglia di versare, a parte l'identificazione, non succede niente. Comunque, ecco, nella promozione che vi ha fatto vedere Aga, comunque, poi su questo ne parlate con lei. Mi sembra che si possa avere comunque anche la piattaforma. Mi confermi, Aga? Sì, esatto. La piattaforma gratuita per un anno e un bonus commissionare di 100 euro. Ecco, la free member l'avete un mese, poi comunque per il conto fondamentalmente i costi sono praticamente limitatissimi. Avete la piattaforma per un anno che costa 30 euro al mese, quindi non è una cosa di poco conto e secondo me si può assolutamente sfruttare. Allora, dove voglio arrivare? L'analisi della parte dell'open interest diventa una cosa importantissima. Perché diventa importantissima? Perché con l'analisi dell'open interest e dei movimenti sulle opzioni noi capiamo cosa stanno facendo. Ma lo sappiamo prima. Voi se avete visto il film, come si chiama, Limitless, dove c'era lui che prendeva una pasticchetta e riusciva a avere la mente che si sviluppava fortissima, in maniera pazzesca, alla fine del film lui aveva addirittura sviluppato dei poteri predittivi. Ci diceva all'antagonista, li toccava il cuore, adesso vedi come l'autobus frenerà, colperà quello, prima che succedesse la cosa. E quello che noi ci consente di leggere il mercato in questo modo sulle opzioni che comandano il mercato, su questo non ci piove, le opzioni che comandano, è leggere prima determinati movimenti. E questo ci fa avere un vantaggio mostruoso. Ai ragazzi, io, qualche giorno fa, feci notare, attenzione, stanno facendo dei movimenti importanti su delle put dicembre. Io, è una cosa che feci vedere con Massimo qualche mese fa, su settembre, famosa trade molto grossa di 80.000 put da una parte e dall'altra, ho cominciato a vedere la stessa cosa qualche giorno fa. Allora cosa vedo? Vedo 11.000 pezzi scambiati sulla put 3.600. L'open interest relativo era 12.000, vuol dire che ha scambiato il 100% dell'open interest. Parliamo di un premio intorno ai 40 punti, non è poco. 3.600 è al momento abbastanza lontano, parliamo di 700 punti, circa un 20%. E poi cosa noto? Noto che anche la 4.000 è diventata interessante, perché faceva quasi 12.000 pezzi scambiati. Gli altri strike non attiravano la mia attenzione. 200, 300, 500, 600. Qui si accende la lucina al buio. Allora, osservo cosa fanno, vado a aprire il grafico di ogni singola opzione, e vedo che la put 4.000 si è scambiato 1.000 pezzi e tanto. Sono cose che io faccio vedere spesso, sono ripetitive, ma alla fine sono le cose che funzionano. E la put 3.600 ne copatate un migliaio di pezzi. Le altre 10.000 dove sono? Non ci sono. Sono ordini fuori mercato. Vado a vedere su Bloomberg, che costicchia, non tutti possono permettere di avere Bloomberg, però vedo anche chi ha fatto la trade, ma soprattutto vedo che sono ordini test. Trade extra system. Trade è fatta fuori mercato dall'istituzionale. L'istituzionale non va a mercato, non clicca come noi, perché svotterebbe il book. Alza il telesolo, chiama il broker e gli dice, ascolta, io devo fare 10.000 put 3.600. Aspetta che ti dico, chiamo Goldman Sachs, chiamo Merlin Lynch, che sono market maker, comunque sul mercato. Allora guarda, ci siamo messi d'accordo, ci sono 10.000, il prezzo è 29, ma sul mercato vale 32. Il prezzo è 29, lo vuoi? Sì, il prezzo è 29, funziona così. Va bene, stretta di mano, registrata la trade, viene inserita nei volumi, ma non la vedo, non la vedo nel grafico, perché non è passato sul mercato. Io e Teaga non potevamo partecipare a quella trade, perché è fatta d'accordo tra le parti. 24 anni fa, quando lavoravo al desk di Cariplo e facevo gli ordini al telefono, quando facevo il rollover del FIB, chiamavo il desk e dico, guarda, il cliente XX deve rollare il future da giugno a settembre. Allora il prezzo è questo e questo. Loro mi incrociavano i due prezzi, chiudevano una posizione e ne aprivo un'altra. Per fortuna che non passano sul mercato questi grossi ordini. Svuoterebbero e non possono farlo, perché più di 100 lotti ti bloccherebbe. Svuoterebbero completamente il book, sarebbe una cosa, e non converrebbe neanche a loro. Ma soprattutto, se loro passano sul mercato, loro fanno vedere cosa stanno facendo. Se invece loro non si fanno vedere nel grafico e qui non c'è nel book il volume, tu non sai a che prezzo l'ha fatto, quando l'ha fatto. A meno che non hai sviluppato software come ho fatto io, che li mappiamo e li becchiamo quando hanno fatto questa trade. È importante fare questo lavoro. Allora cosa vado a vedere? Questo è di ieri, credo. Vado a vedere che l'open interest, il giorno dopo, perché poi ora di sera i 10.000 è diventato 50.000. Vado a vedere l'open interest, 52.000 sulle 3.600 e quasi 40.000 sulle 4.000. Oggi non ho guardato, quindi lo vediamo insieme così. Ecco, poi questo piccolo paper che sto facendo, io sono abituato a lavorare in questo modo, anche quando faccio le lezioni ai miei allievi. Quindi io dico, voi non prendete appunti, voi dovete ascoltare me, io prendo appunti per voi, tutto quello che vi faccio vedere, faccio foto, screenshot e metto in un file word e poi ve lo mando. Vengono fuori 100-120 pagine al giorno. Poi si registra anche la lezione, in modo tale che uno è concentrato e attento solo a guardare. Voi avete la registrazione e poi questo paper eventualmente lo darò ad Aga, così poi... Esatto, così io lo faccio, lo condivido con chi lo vuole. Magari lo schermo è piccolino. No, no, ci mancherebbe, non serve. Seguite Fabio e anzi io vi invito caldamente a scrivere le vostre domande. Approfittate di questa occasione di avere Fabio a vostra disposizione per chiedergli le cose che vi... Salutiamo PlayOption, Aga, che ci saluta, ci saluta PlayOption, quindi sarà sicuramente... Sì, di nuovo, ciao Denis, ciao, ciao Tiziano, ciao a tutti, ciao a tutta PlayOptions, che ci aiuta tanto nella gestione di questi mercati, perché che mondo sarebbe senza B-Trader? Allora, vediamo un pochino di vedere come sono posizionati oggi. Intanto, mentre si carica, Fabio, rispondo a un ascoltatore che chiede circa gli ordini combo se sono in programma sulla T3, ancora no, non sono, diciamo, all'ordine del giorno dei lavori, dei cantieri aperti, ma gli ordini combo si possono inserire da B-Trader, quindi basta che ti abboni alla B-Trader, la colleghi alla T3 e puoi fare tutto, anche le strategie... Sì, in realtà, allora, B-Trader ha un'abilitazione degli ordini combo, però è con un broker estero. C'è una funzione molto interessante su B-Trader che si chiama Smart Move, che è una sorta di sistema automatico connesso con la T3 Open, dove vi mette, vi toglie l'ordine automatico alle condizioni che voi mettete, quindi poi quello dei combo, io capisco che è una cosa assolutamente interessante e importante da avere, purtroppo noi stiamo cercando di fare il possibile, i micro-future, le micro-opzioni, mi viene chiesto perché non mettete le micro-opzioni, semplicemente perché sono liquide. In questo momento, per darvi delle statistiche, se io ho una giornata, un certo orario, ho 200.000 pezzi scambiati sulle opzioni settimanali, io sulle micro-opzioni ne ho 2.000. E allora abilitare uno strumento che richiede anche un certo tipo di attività, di monitoraggio, su strumenti così scarsamente liquidi ancora, preferiamo un attimino aspettare e vedere un po' cosa succede. È un po' come i micro-future, che poi alla fine hanno preso piede, adesso i micro-future, e li useremo anche oggi, sono assolutamente interessanti. Vado veloce perché il tempo passa e poi faccio vedere i DPD sul Nasdaq. Allora, voi vedete il mio schermo con l'option panel, Aga, conferma, io chiedo sempre a te. Sì. Perfetto. Allora, vedete, 3.600 sono 52.000, quindi mantiene assolutamente quella quantità oggi. E l'open-inte sulle 4.000 è sempre 38.000, quindi assolutamente non abbiamo differenze rispetto al giorno passato. Ora, quello che dobbiamo fare noi è capire, adesso io rimetto, io sono un po', eccolo qua, calcolatore margini, dobbiamo capire, far capire agli amici da casa che cavolo vuol dire questa trade. Cioè, questa trade che hanno fatto lunedì, che è molto grossa, cerchiamo di quantificarla. Cioè, aprire una posizione che è di opzioni vendute, mi si può dire come fai a sapere che sono vendute? Allora, voi in questo momento dovete fidarvi di me, tra virgolette. Io le ho analizzate, sono posizioni vendute, non è una posizione... È tra l'altro lo stessa mano che ha fatto tutte e due le trade. A volte fanno dei vertical a credito, vendono una e comprano sotto. Quando fanno una trade molto spinta le vendono tutte e due, come è in questo caso. È una trade che obiettivamente è un asso sul tavolo. Perché? Perché un istituzionale che fa una trade del genere così grossa, strike 3.600 e strike 4.000, noi, che analizziamo queste cose bene o male quotidianamente, ci scriviamo questi livelli, ce li mettiamo in agendina e li teniamo d'occhio. Primo, sappiamo a che prezzo l'hanno fatto. Secondo, per capirci, la 4.000 l'hanno fatto intorno a, credo, un 100. Aspetta che ve lo dico che a memoria, che ormai la mia memoria vacilla, la 4.000, perché l'altra era intorno ai 40 punti. Sì, era intorno ai 100 punti la 4.000, intorno ai 40 la 3.600. Cosa vuol dire? Vuol dire che 3.600 meno 40, 3.560 è il loro break-even. Segnato, 4.000 meno 100 punti, 3.900 è il loro break-even. C'è il punto oltre il quale loro perdono. Quindi da 4.000 a 3.900 loro difenderanno con la spada tratta. Perché? Perché questa è una trade molto grossa. Per farvi capire, 52.000 put, non 52, ma 52.000 put vendute. Voi vedete l'option panel, Aga, giusto? Allora, adesso deve essere sottotitato qualcosa, perché vediamo sotto l'option panel, ma sopra un cubo nero, magari ricarica per cortesia. Aspetta che vediamo se si vede il calcolatore margine. Questo ho usato la T3 no frame. Sì, adesso sì. Perfetto. Ok, se io faccio meno 38.000 e meno 52.000 mi rendo conto di che portata è questa trade. Parliamo di 700-800 milioni di euro, circa. 682 milioni di euro. Che cosa vuol dire? Vuol dire, primo, che non siamo né io né te né Stefano a fare una trade del genere. È pacifico. È uno grosso. Ma quanto grosso? Tanto. Perché un operatore istituzionale, io ho fatto l'istituzionale, non può lavorare come lavora un retail. Usa la metà del saldo del conto. No. Se usa il 5% è tanto. Allora, se pensate che questo è il 5% della liquidità di questo operatore, sfioriamo quasi il miliardino qui, eh. Siamo lì. Vuol dire che ne ha almeno 10, 15, 20. Ma allora ti chiede Valerio, Fabio, se esiste un mercato parallelo a questo punto. C'è un mercato retail dove partecipiamo noi e poi c'è un mercato a parte dove passano questioni. Un mercato parallelo non è parallelo, è il mercato ufficiale. Questo è quello che fanno gli investitori istituzionali. Se non li leggiamo, noi andiamo a mercato. Semplicemente andiamo a mercato. Cioè, se noi sappiamo che loro hanno fatto questa trade, provate a pensare. Se un grosso operatore lunedì si mette a vendere 7-800 milioni di euro di margine input, il mercato può salire o può scendere. Cioè, dove vuoi che va? Ma questa è una trade fatta non su questa settimana, su dicembre. Ne dobbiamo prendere atto. Non hanno venduto all'1%, hanno venduto a una certa distanza. Quindi vuol dire che loro hanno fatto quella trade perché? Perché secondo loro il lunedì era un livello da vendere. Mercato, poi il lunedì ha fatto una bella spike. Gian Vito l'aveva previsto che quello era un minimo da comprare. Io stesso, i miei ragazzi, ho detto, sta scendendo ma c'è qualcosa che non va. Manca. Ma mica la tengono fino alla scadenza, Fabio, questa posizione? No, assolutamente. Ma noi facciamo, cioè il trader fa trading live e quindi una trade del genere comunque ti influenza nel breve. Ma essendo una trade fatta su dicembre, che tra l'altro è abbastanza aggressiva considerando che c'è la Fed, è molto aggressiva. vuol dire che secondo il trader, che magari sbaglia, non è la Bibbia, attenzione, non è la Bibbia, ma noi dobbiamo leggere tutti questi sassolini lasciati dalle istituzionali come Hansel e Gretel perché così seguiamo la strada. Poi possono anche sbagliare, ma il loro errore è poi 3.900 di Berkeven, 3.560 di Berkeven. Quanto è distante 3.900 da qua? serve oltre il 10% di ribasso. Vuol dire che c'è tutto il tempo di far qualcosa. Ma noi sappiamo che quella, oltre ad essere un numero tondo, 4.000, hanno caricato pesantemente su dicembre, non su ottobre, non su questa settimana. Vuol dire che, secondo loro, non c'è tutta questa paura di scendere. Noi lo dobbiamo interpretare in questo modo. Poi uno può leggere i fondi di bottiglia, credere in quello che vuole, ma è fondamentale basarsi su cose oggettive, reali e definite. Se cominciamo a far tre di in pancia si può fare quello che si vuole, ma questo è un dato di fatto, ne dobbiamo prendere atto. Abbiamo i DPD che sono sbilanciati a ribasso, che è una cosa, ma abbiamo una thread molto particolare fatta su una scadenza non banale. Sappiamo i livelli che hanno posizionato a livello di premio e sappiamo quale è l'orbrekeven. Cosa vuol dire? Che se per caso stasera dicono qualcosa e il mercato scende, dove aspetteremo il mercato così pronti a fare qualcosa? Da 4.000 a 3.900. Perché? Perché qualcuno lì ha molto interesse. A difendere quel livello. Se poi quella 13 fa fare 20 punti, chi se ne frega? Sono 1.000 dollari. Perché hanno scelto questo strike secondo te, chiede un ascoltatore? Allora, 4.000 è un numero tondo, non ci piove. Il 3.600 noi dobbiamo andare a vedere una cosa che si chiama grafico. Cioè, è giustissima la domanda, anzi, ringrazio molto il telespettatore. Allora, se andiamo a vedere il grafico, questo è un grafico giornaliero dell'SP500. Loro hanno posizionato, ed è giustissimo fare così, a 4.000 lo strike, ma in realtà è 3.900 il livello, perché è comprensivo del premio, e poi hanno posizionato a 3.600, quindi mi metto delle barre, poi magari non sono proprio precise al tic, ma grosso modo ci sono. Levo un po' della roba vecchia perché sennò ci dà solo fastidio. Cos'è il gun, quello che stai tolendo? Questi sono ventagli di Fibonacci, che ha la funzione della piattaforma T3, si fanno da un minimo a un massimo, e danno delle proiezioni. Come vedete, io ho disegnati tanto tempo fa, ma tanto, ma sono molto, molto carini, e tra l'altro si è quasi appoggiata sul livello. Adesso li leviamo solo perché ci danno fastidio nella nostra analisi che andiamo a fare. Allora, andiamo a mettere il livello di 3.600, l'ho messo? Sì, perfetto. Allora, loro hanno venduto lo strike 4.000 con un break-up a 3.900, e questa, che cavolo è? Questa è un'area di ex resistenza del mercato, perché il mercato è arrivato in quest'area qua, è stato respinto, poi ci ha riprovato, ha tenuto di nuovo e poi è partito. Scusami Fabio, potresti abbassare un po' la T3 perché è mangiata un po' in alto e non si vede bene? Allora, facciamo così, facciamo così, così, tac, io lo metto in Word, adesso switcho in Word, non so se è meglio o peggio. Vediamo un pochino, stop, no share, dovrebbe essere questo, giusto? Vedete il grafico? Sì, sì. Ok, quindi quest'area qui di tra 3.900 e 4.000 era un ex area di top storage, quindi anche graficamente ha il suo perché, ha respinto, poi alla seconda volta ha rotto e non è più tornato lì, oltre ad essere un numero tondo molto significativo, perché i numeri tondi hanno un'attrazione, quindi qui è la prima livello e quello dopo? Eh, ragazzi, il grafico dice altrettanto. Guardate, area 3.600 era ex massimo storico, qui parliamo di tempo fa, quindi settembre dell'altro anno, il mercato è arrivato lì, è stato respinto, poi finalmente ha rotto, quello che era una resistenza è diventato un supporto, ha tenuto più volte, ecco perché si sono posizionati lì. Quindi la spiegazione è anche legata, molti dicono l'analisi tecnica non funziona, è una grossa cazzata, scusate la parolaccia, è una grossa cavolata. Dipende, alcune cose non funzionano più, io quando leggo qualcuno su Investing, il Mac da un minuto ha incrociato, cioè, quello è una cosa, ma se noi guardiamo supporti resistenti orizzontali, hanno loro perché? Poi magari ognuno di voi ha la media mobile magica, anche se la media mobile è basata sul passato. Io ho un mio RSI settato con dei parametri particolari che funzionano nove volte su dieci. Poi uno può credere, dicendo meno, ma se la statistica mi dice che funziona, io la uso e la seguo. Quindi l'analisi grafica ci dice effettivamente che quelle sono aree interessanti. La cosa che io andrei a notare, lo facevo notare ai ragazzi, è che si è interrotto una sequenza importante. Questo è un grafico giornaliero. Cosa notiamo? Notiamo che tutti gli swing che non superavano il 2%, massimo 3%, swing vuol dire ritracciamento, massimo faceva un meno 3%, avevano una sequenza di minimi crescenti. Lunedì ha rotto questa sequenza. Cioè ha fatto un minimo più basso. Ha rotto questo minimo, ma ha chiuso sopra. Ha chiuso sopra questo livello che era 3,40. Quindi questo minimo che ha fatto, questa ombretta, in realtà non è stata confermata in chiusura. Anche ieri è andato giù e poi ha recuperato. Ha chiuso, torna a 42, 43. Perché? Perché 3,40 è molto tosta. È molto importante. Rotta quest'area qui, allora andremo a vedere qualcosa di diverso. Quindi è fondamentale adesso osservare cosa faranno i mercati. È due settimane che scendono, ma stanno scendendo senza una cosa importante. Non c'è panico. Io non lo vedo. Non lo vedo nella vola. Un trader, formatore, mi ha scritto stamattina, poi gli risponderò, come mai mi sono esplosi i margini lunedì? Eh, hai visto cosa ha fatto il VIX tra venerdì e lunedì? È salito. Ma non è solo il VIX il problema. Il problema è la vola implicita. Io ho visto tra venerdì e lunedì, venerdì quando il mercato ha cominciato a scendere, delle opzioni, ricordo, 3.800 sulla scadenza ottobre che valevano il giovedì 8 punti, i venerdì sono andate a 20 punti. Col mercato che ha fatto meno 1,5, cosa vuol dire? Che la vola implicita su quella scadenza, su quell'opzione, è raddoppiata. E se raddoppia, non dico che raddoppio i margini, ma un incremento del 30-35% ci sta tutto. E quindi qui abbiamo un piccolo parentesi. Il margine è fondamentale per tutti i trade. Dovete abituarvi a avere la fissazione dei margini. È importantissimo. Allora, io interrompo un attimo. Aga, se vuoi intanto leggere qualche domanda, io devo aprire un attimo la T3 Open perché mi si è chiusa. Allora, al momento non ci sono altre domande perché probabilmente... Io ne vedo una marea su YouTube. Su YouTube sono più che la nostra osservazione. Assolutamente li mettiamo. C'è una domanda intanto. Le opzioni sulle commodity, quando le metterà WeBank, è il discorso di prima. Esatto. A parte che mi volete far lavorare troppo, quindi fare anche quello. Però avete ragione, tipo opzioni su petrolio, gold, eccetera, eccetera. Sono strumenti interessanti. Il problema è che le commodity hanno comunque delle variazioni importanti. Pensate a cosa è successo un annetto fa sul petrolio, ricordate, no? Quando è andato a meno 37. Immaginate cosa si poteva fare come danno con quegli strumenti. Quindi bisogna anche un attimino avere accortezza di avere strumenti che siano anche adatti al tipo di clientela. Nel momento in cui uno è un investitore professionale, allora sa ben quali sono i rischi che corre. La clientela retail, seppur profilata Mifid, comunque deve sempre essere anche tutelata dalla banca stessa. Questo è importante. Cioè l'attività di monitoraggio che fa la banca con i miei ragazzi, eccetera, eccetera, io stesso, è voluta non tanto rompere le scatole clienti, ma cercare di prevenire qualcosa. Io nei miei anni, mai sono 24 anni che faccio questo mestiere, io ne ho viste tante, ma talmente tante, che vedere gente che ti piange al telefono non è bello, non è che ci si diverte qua. E quindi il cercare di rendere anche l'operatività della clientela minimo sicura, vuol dire anche magari non mettere determinati strumenti che possono essere un po' pericolosi o eccessivamente pericolosi. Qui parliamo di derivati che è la cosa più pericolosa che c'è. Quindi bisogna stare un attimino all'occhio anche su questo. Poi, Petto, io non mi occupo di prodotti. Sicuramente, ecco, Agam, magari una mail la puoi scrivere ai responsabili dei prodotti chiedendo che c'è questa richiesta, perché è giusto farla, visto che comunque ci viene fatta dalla... Senz'altro, perché chiaramente la banca segue quello che sono le vostre necessità. Esatto, allora io ho ripristinato questo. Allora, riprendo BitTrader. Mi hanno chiesto i DPD sul Nasdaq e quindi andiamo a vedere il Nasdaq. Ti chiedono comunque anche il settaggio del tuo RSI. Eh, vogliono sapere tutto. Vogliono sapere tutto. Cosa dici? Glielo diciamo o non glielo diciamo? Allora, penso che se lo meritano, no? Se lo meritano, io dico sì. Sono qui con noi. Voi chiedetelo ad Aga e Aga ve lo dirà. Va bene. No, scherzo. No, vabbè, io non sono geloso delle mie cose, assolutamente. Io quando insegno le mie cose ai miei allievi, gli dico, voi queste cose le potete insegnare a chi volete. Io vi chiedo una cosa sola. Fatelo quando avete la piena padronanza di questa materia. Io da tre anni che ho deciso di insegnare queste cose, l'ho fatto, ma è più di vent'anni che le faccio. E io non mi sento al cento. Non sono a cento. A cento è Cagalli. Io non sono a cento. Il percorso è molto lento. Poi alla fine la curva di apprendimento è molto lenta. Per poter insegnare questa materia bisogna avere una padronanza pazzesca. Io quando faccio vedere una cosa, ho il piano A, il piano B, il piano C. È fondamentale conoscere molto bene. Perché sono fatte del male alle altre persone. Quindi insegnare le cose è importante. Io non sono geloso. È un RSI a sette periodi. Sette periodi. Perché sette? Quattordici è normale. Tra l'altro quattordici è metà di ventotto. Ventotto è il ciclo lunare. Perché è più sensibile a sette periodi. Ma non va bene trenta e settanta. Perché non è né per comprato né per venduto. Quando lavoravo come istituzionale ho fatto girare in sistemi molto costosi perché la fonte dati è costosissima. Sì entra dei che non. E ho trovato qual è il miglior settaggio. Quindi sette periodi 23,83. Bene. Ti fermo un secondo. Allora prima di passare al Nasdaq perché un ascoltatore ti chiede maggiori informazioni sulla gestione di quella mega posizione che hai mostrato poco anzi. e dice nel caso in cui il sottostante sull'S&P va contro quindi a quella posizione e arriva nei pressi di 4.000 quali azioni mettono in campo per difendere le posizioni? Allora è un trader molto bravo che salutiamo che è giusti. Lui fa ad esempio strategie di credo di show strengo con difese meccaniche. Difese meccaniche lo si fa. Qual future sì. Non c'è un'alternativa in caso di panic al future perché il future è il delta 1. Quando c'è la Brexit e io vedevo il FIB a meno 13 i book delle opzioni erano vuote. I market maker avevano paura a mettere prezzi o se li mettevano mettevano degli spread mostruosi. E quindi si rendeva impossibile andare a mercato. Quando ci fu a marzo dell'altro anno il Covid e che il mercato faceva meno 6, meno 7, meno 8, i book delle opzioni erano chiusi perché c'era il circuit break. Cioè il mercato se mi aveva chiuso l'operatività. C'era aperta solo sul future e andavano col contagocce gli ordini come un imbuto con un bidonask prestabilito. A volte il future è l'unica cosa ma è l'unica cosa da fare in casi veramente di debacle perché il future rimane aperto. Ma normalmente quello che fanno gli investitori istituzionali o professionali è coprirsi. Allora rollare e aumentare le quantità no perché è la fine del trader in assoluto. Pensate solo a raddoppiare le quantità su una roba del genere. Impensabile. La cosa migliore è coprirsi. Come si copre una struttura su dicembre? Bisogna comprare delle protezioni o vendere dei future. Cioè loro fondamentalmente se va lì loro difendono comprando future. È il modo migliore per sostenere il mercato. Ma se devono difendere inizialmente si possono coprire con le opzioni. Quali opzioni? Scadenze più brevi. Le opzioni settimanali hanno un grosso potere. Consentono con una quantità di denaro limitata coprire posizioni in delta. Perché se io sono short di put 4000 che ha un delta che so 0,3 e il mercato va giù. Ma comprare quelle put mi costa 400 punti che è follia per quella quantità. Io mi copro comprando un'opzione settimanale magari 4.050. Che invece di 400 punti magari ne costa 30. È vero che dura magari una settimana o due settimane. Ma a me interessa coprirmi oggi di delta. Se io compro una put 4000 e 50 sono short da 4000 e 50. E quindi tutto il danno che mi fa da 4000 e 50 in giù io non ce l'ho più. Poi è vero che dopo una settimana o due settimane mi scade la copertura. Ma intanto io in quel momento ho bloccato la copertura e ho azzerato i margini. Se poi rompe il livello vanno short di future. Spesso e volentieri la tecnica più usata è lo short di future. Per quello su di livelli così potenti. Se per caso al primo tocco al 99-99 rimbalza perché è impossibile che non lo difendano. Ma se poi rimbalza e poi torna lì hanno speso soldi e non ne hanno più da spendere. Allora a questo punto trasformano la trade. Da short put diventa put sintetica. Cioè vanno short di future. Vanno a coprire in termini di delta quella posizione. E a quel punto si crea l'effetto valanga. Perché? Perché scattano. È come quando scattano gli stop loss. Praticamente quando scattano gli stop loss il mercato accelera. Perché? Perché vengono bevuti tutti gli stop loss del mercato. I famosi spike. Stasera vedremo gli spike. Li vedremo perché vedrete stasera prima che parla la Fed. Vedrete i book dell'SP500 che improvvisamente si svuotano. I book delle opzioni hanno bid e ask mostruosamente differenti. Ci saranno degli spike anche dell'1%. Così brum brum. Spesso e volentieri c'è chi mette ordini buy qua e ordini sell qui. Li prende e ti fa. Però invito a non fare questo tipo di cose perché c'è la sua piccolosità. Fabio, ma sai cos'altro c'è stasera oltre a Powell? C'è il Mila Venezia. C'è il Mila Venezia. C'è l'equinozio a proposito dei cicli lunari di cui parlavo prima dei numeri. Oggi stasera intorno alle 20 e 30, proprio quando parla Powell, il giorno e la notte si equivalgono. E finisce l'estate in pratica. Da domani in poi la notte sarà più lunga. Tra l'altro c'è anche una luna piena non da poco. Occhio, queste cose influiscono molto. Le correnti energetiche, spaziali. Allora, io devo i DPD a qualcuno, non mi ricordo chi. Mi scuso, mi ricordo il nome. Però ecco qua il DPD del Nasdaq. Allora, non guardiamo quello di oggi perché oggi è ancora in costruzione. Guardiamo quello di ieri. Uso un passo 100. Anche qui siamo su time frame settimanale. Qui abbiamo un po' più di roba compressa. Anche qui c'è una posizione abbastanza delineata, molti più call di put. C'è abbastanza timore a vendere put sul mercato in questo momento per i motivi che ci siamo detti. Però ecco, non c'è uno sbilanciamento come sull'SP. Sull'SP c'è maggiore sbilanciamento tra le call e le put. Questi sono i DPD. Vi faccio anche la foto così rimane traccia e la mettiamo. Esatto. Poi appunto, io ho già scritto nei commenti che vi faremo avere naturalmente il materiale di quest'oggi. Fabio poi... Assolutamente, sì. Poi ecco, se avete domande particolari, allora io lavoro tantissimo con Telegram. Chiocciola F Gaudio, Firenze Gaudio, il nick è Gaucho, però. Chiocciola F Gaudio, su Telegram mi trovate oppure mi scrivete una mail appena posso vi rispondo. Oppure, ripeto, tramite AGA ben volentieri. So che siamo un po' tirati. Fandiamo un po' le domande. È possibile che vi metterai ok? Come si fa a diventare un tolire? Allora, io ne prendo pochi, perché lo faccio ovviamente al di fuori dell'orario lavorativo. Infatti, io spesso, la prima lezione la faccio sempre di sabato e domenica. Perché? Perché ho bisogno che il mercato sia chiuso. Ho bisogno che il mercato sia chiuso perché? Perché se no ci distrae. Perché se io vedo il mercato vi devo far vedere delle cose. E quindi il mercato deve essere chiuso per stabilire dei concetti importanti. Considerate che il percorso formativo dura quasi due mesi, poi in realtà va avanti, quindi è un percorso faticoso. Basta che mi scrivete su Telegram, però ecco, non ne prendo tantissimi perché proprio è un'attività abbastanza importante. Io vorrei, Agas... Ti ho interrotto la condivisione perché mostrava soltanto lo schermo nero e quindi ti chiedo di ricondividere e ricaricare. Io vorrei fare, vedere qualcosa, cioè, visto che purtroppo il tempo vola, e questo me ne scuso, io sono un chiacchierone. Allora, vediamo un pochino di guardare qualcosa sul mercato. Adesso io condivido la piattaforma di nuovo, piattaforma Bitrader, ripeto che ringraziamo sempre PlayOption per averci dato la condivisione. Vediamo se lo metto nello schermo un po' più grande qua, se si vede meglio. Adesso si vede bene. Ok, sì, perché ho un monitor piccolino. Io infatti volevo farlo dal mio studio, però poi era un po' problematico perché avevo il cagnolino che poi... Che passava sulla tastiera e inseriva degli ordini. Sì, 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 esatto, Yuki poi dava fastidio. Allora, di faccio vedere una cosa... Aspetta che forse ho parlato troppo presto perché di nuovo non è visibile. Aspetta, eh, che io... Non so, vedi anche nell'anteprima di Zoom che... Ecco, adesso si vede, benissimo, puoi proseguire. Ok, ok, ok. A volte clicco io per sbaglio. Allora, se io vado long di SP500, ho una struttura di payoff che è questa. Possiamo andare avanti qualche minuto? Sì, vero? Sì. Allora, lato nostro naturalmente ci penso va bene anche per Stefano. Possiamo... Spentiamo Stefano la regia. Qualche minuto ce l'abbiamo ancora? Stefano... Ma certo, senza problemi. Così finisco questa cosa perché... Senza neanche chiederlo. Perfetto, allora, se sale guadagniamo, se scende perde. Bene, ecco. Allora, è importante... Voi, se siete bravissimi e fate tante trade con i future non sbagliate, questa cosa non vi serve. Ma se invece, come la maggior parte delle persone, a volte si sbaglia, si possono attuare delle tecniche. Invito a non copiare questa cosa perché vi faccio vedere una cosa molto basica. In realtà le cose veramente belle sono altre ma richiedono delle spiegazioni un po' più profondite e non c'è il tempo per poterle fare. Ma giusto per farvi vedere che cosa vuol dire lavorare sul mercato. Mi sposto questo che mi dà fastidio. Dimmi poi, Aga, sempre se lo schermo si vede o non si vede perché... Sì, tutto bene. O guardo qui o guardo la cosa. Ecco, allora, il collar è una strategia classica del mercato. È una delle strategie più interessanti, mentre l'Aeron Condor è una schifezza. Sono stati scritti dei libri sull'Aeron Condor, poi magari si può anche discutere con chi ha scritto quei libri che dirà che sono buone, ma io poi vi dimostrerò perché l'Aeron Condor è una schifezza, perché non lo dico io ma lo dice il Siboe. Però l'Aeron Condor è una strategia un po' particolare. Ecco, il collar è una strategia che ha un rapporto di rischio di mento buono. Diciamo di volerci posizionare sul terzo venerdì di ottobre sull'SP500 e voler coprire questa posizione. Se siamo long, dobbiamo coprirci con una putta. Ecco, io sono uno tra i pochi in Italia, forse anche l'unico, perché nei buchi ci siamo solo noi, a usare le opzioni in the money, perché sono delle opzioni che hanno determinate caratteristiche. Però il collar si può fare anche con altre cose. Allora, la creazione, quello che deve fare il trader, è vedere il disegno che viene fuori e capire se quel disegno rispetta determinati canoni di rischio. Allora, se io vado a prendere, ad esempio, una coperta, siamo a 3,66, 3,67, tra l'altro stiamo già guadagnando 43 dollari, poi lo correggiamo perché non voglio guadagnare, decido di coprirmi, diciamo, da 4,330, io cosa ho creato? Ho creato quella che viene chiamata una call sintetica. Cioè, io ho un future con una putta e una call sintetica. È la stessa cosa di comprare una call. E allora perché non facciamo solo quella? Perché la gestione è diversa. Ma vediamo nel dettaglio, che intanto il rischio non è più infinito. Ma questo ha un costo, 5287 dollari, scusate, è il costo di questa cosa, che è decisamente alto. Ora, riusciamo a finanziarlo? Certo. Noi siamo long o siamo short? Siamo long. Quindi possiamo tranquillamente vendere una call. Non stiamo facendo nulla di naked. Stiamo vendendo una call. Se abbiamo pagato 70 punti una put, che è tantino, non è poco, e siamo long da 4,68, vogliamo finanziare almeno parte di questa trade. Allora, se io vado a vendere la 4,4, che vale 60 punti, ho una struttura di questo tipo. Mettiamolo a mercato. Ho una struttura che di per sé non mi piace molto. Perché non mi piace molto? Perché ha una caratteristica importante. Posso guadagnare 1.200, ma ne rischio 2.000. Non è il massimo della vita. Però, ha un però non banale. Basta poco per andare in game. Basta un più 0,15. Cioè, le probabilità, se il mercato sale, sono praticamente totali, se sale. Ma se scende è un problema. Ecco, il trader deve lavorare su questo aspetto. Posso migliorare questa cosa? Certo. Cosa succede se il mercato scende? Perdo soldi. È accettabile per me perdere 2.000 dollari? No. Per fare 1.200 neanche. Non mi alzano anche della sedia. Io cerco delle trade con rapporto 1 a 10. figurarsi qua sotto zero. Non esiste. Ma c'è la possibilità di lavorare con degli strumenti che la piattaforma T3 ha, e si chiama Micro Future, che mi consentono di fare degli aggiustamenti di delta. Cioè, di fare quell'aggiustamento di delta che può dare quella spintarella alla struttura che mi consente, forse ho messo uno in più, che mi consente di avere un minimo di neutralità al delta se le cose vanno male. Allora, vi invito, non è una strategia da fare, è solo per spiegarvi, ma cambia tanto avere un aggiustamento. Questa è una strategia che graficamente ci piace? No. Perché non ci piace? Perché è vero che se il mercato sale io guadagno, ma dopo un più 6 non guadagno più. Però intanto deve passare da qua. Cioè, come quando si gioca al Monopoli, si passa dal via. Prima di andare a più 6 passa da qua, e se passa da qua io guadagno soldi. Quindi non mi preoccupo di questo. È difficile che domani un mercato faccia più 6. È molto più facile che faccia meno 6. Però se scende il mercato, io non ho i 2000 e passa, però vado a perdere 380. Ho limitato il danno. Ma graficamente non ci piace. Perché non è armonioso. Quindi una cosa del genere non va bene. Vuol dire che noi stiamo disegnando qualcosa che non ci piace. E se una cosa non ci piace, non la si fa. Quindi è importante andare a disegnare quello che stiamo facendo. Perché? Perché il disegno e la graficazione ci fanno vedere se stiamo facendo delle cose giuste. Qual è qua il problema? Il problema probabilmente è aver venduto intanto una call troppo vicina. Se la vendo un po' più luttana riesco a avere armonia sulla salita migliore. E avendo armonia sulla salita migliore posso permettermi di migliorare la parte di copertura. Vi faccio vedere quello che è il processo di creazione di una strategia. Allora qui abbiamo che se il mercato sale guadagno un po' di più, mi finanzi un po' di meno, però quel po' di più mi consente di migliorare la possibilità di aggiustare la trade. Vediamo un po' se così riusciamo a migliorarla. Ecco. Vedete adesso per esempio, per esempio, se il mercato scende non soffriamo più. Mentre prima andavamo in drawdown. Questa è quasi più una strategia più ribassista che realzista. Perché io mi trovo qua, se il mercato scende io non perdo niente. Di fatto non perdo niente. Il problema è che se sale ho meno vantaggio. Cioè guadagno fino a un più quattro, però ho meno vantaggio. Quindi bisogna fare dei piccoli aggiustamenti, lavorare su un pezzettino e sull'altro per migliorare il tutto. Questo si può benissimo fare in questo modo. Aspetta che mettiamo un po' di cose. che poi, ripeto, io la sto facendo tutta live. Poi ho due domande da leggerti. Sì, quando credo le cose. Poi non si sa, io vabbè ho delle strategie classiche che vado a fare, ma non si sa mai dove poi ci si arriva, no? Dove si va, dove si può raggiungere. Vediamo se ho la connessione. Ok. Vediamo un po' di migliorare la parte sopra. Così non mi piace. Tac. Arrivo, eh. Portate pazienza. Allora, allora, visto che non mi piace, non mi piace per niente, allora, cambiamo proprio. Cambiamo proprio, perché il payoff deve uscire, io sono long, non esiste che sulla salita io non guadagno. Non esiste, non mi piace questa cosa. Allora, se questo non ci piace, perché graficamente non esce qualcosa di interessante, proviamo a cambiare i delta. Probabilmente 330 non era adeguato. Allora, proviamo a lavorare con dell'endemoney. Proviamo a fare una cosa di questo tipo. Vediamo se le cose così ci migliorano. così mi garba un po' di più. Ok. Comunque è impressionante la padronanza che hai della Bitrader, perché si fa fatica a seguire. Sì, sì, no, ma allora, adesso voi non badate, non badate troppo a la parte, tra virgolette, estetica di quello che sto facendo, perché sto cercando di capire qual è lo strike più adatto su quella scadenza da fare. Quindi non badate troppo all'estetica. Ma è interessante anche vedere man mano che cambi la composizione del portafoglio. Sì, assolutamente. Come cambia? Noi dobbiamo fare qualcosa che stia in piedi. Se quel qualcosa, per qualche motivo, non sta in piedi, vuol dire che stiamo sbagliando, stiamo sbagliando lag, stiamo sbagliando addendi. Quindi ci deve essere un certo rapporto rischio-rendimento. Se quel rapporto rischio-rendimento, poi vedo qua che mi scollega sempre l'informativa. Allora, noi siamo a 4,50. Vedi che si devono accendere di... Ecco, adesso si sta illuminando, perché quando si illuminano i verdi, vuol dire che i dati sono collegati. Allora, se non si illuminano, usava dei dati non adeguati. Allora, ok, ci siamo. Allora, se io vado a fare una strategia così, la semplifichiamo, visto che il tempo scorre. Poi, mi riprometto magari di far qualcosa di, di più carino in tal senso. Allora, se io faccio una struttura di questo tipo, leviamo questo che al momento non ci serve, e andiamo in paper. Allora, se io faccio una struttura di questo tipo, che ha, lo grafichiamo, questo è un classico collar, che ha un rapporto rischio-rendimento, rischio 75 per farne 425, rispetto ai 1.200 contro 2.300 iniziali. È meglio o è peggio? È molto meglio. Molto meglio. Intanto, aggiustiamo perché c'è qualcosa che non va, lo vedo subito. Perché? Perché stiamo barando sul future. Perché il future sta già guadagnando, non va bene, dobbiamo aggiornare i prezzi attuali, altrimenti non siamo credibili, bisogna fare le cose giuste, altrimenti non va bene. Ok, così è perfetto. Quindi il rapporto rischio-rendimento è leggermente peggio, però ecco, rispetto a quella di prima, ha un senso, ha molto più senso una cosa del genere. Poi si può migliorare, ripeto però, noi riusciamo ad azzerarlo questo costo, però io veramente non ho in questo momento il tempo, e non ve lo posso neanche far vedere, perché richiede delle ore, spiegarvi queste cose. Però già così, è una chicca non da poco. Qui abbiamo un rapporto rischio-rendimento quasi 1 a 4. Se il mercato fa un più 2 rotti, noi andiamo a target, se non lo fa, perdiamo questo. Ma non perdiamo questo oggi. Noi abbiamo 23 giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il mercato, invece di salire, scende, per raggiungere quella perdita, deve fare un meno 5. Inoltre, c'è una cosa fondamentale, che è la gestione. Perché noi abbiamo una put, ed è per questo che io non faccio il vertical, cioè non compro la call e vendolo a call, che graficamente sarebbe la stessa cosa. Ma tengo il call, perché sulla put c'è la gestione, e la gestione è l'80% della trade. Cosa vuol dire? Che se il mercato scende, il delta della copertura crescerà sempre di più arrivando a un delta 1, e io potrò spostarlo e abbassarlo. In modo tale che anche se mi dovesse andare contro, questo qui lo portiamo sopra lo zero in un attimo. È molto banale, però, Peto, richiede delle spiegazioni che non ho il tempo di darvi. Quello che vi voglio spiegare, e chiudo poi a questa parte della strategia, è che si può lavorare in tanti modi, poi in primo momento ne faremo un'altra, magari tra un mesetto di questo fondamento, magari la faremo più concentrata sulle strategie, che così è più adatta, dove andiamo veramente a levare questa qua, e vi farò vedere delle cose, però questa non ha margine, questa non ha margine, ha un rischio matematico di 125 dollari, punto. Ma questo è un rischio tra 20 giorni. Vuol dire che se poi il mercato non fa quel movimento, ci sono tutta una serie di tecniche di gestione che fanno sì che noi non perdiamo 125. Se uno vuole stimare qualcosa, toh, 40 dollari, 50 dollari, ecco. Ma 40 contro 3,75, è una 9, una 10. Quante volte possiamo sbagliare? Tante. Possiamo sbagliare 3-4 volte, ce ne basta una e siamo in guadagnia. Così si lavora. Il mercato può fare quello che vuole, che non ci crea problemi, e non abbiamo problemi di margine. L'ultima cosa che voglio far vedere... Un ascoltatore chiede se puoi fare un veloce ripasso di come l'hai montata questa strategia. Non so se ho tanto tempo. Scrivetemi su Telegram e vi dedico tutto il tempo. Ora rivedete il video. Prima che conchiudevo. Anche perché io no, ma io non ho fatto vedere come l'ho creata. Hanno ragione, nel senso che io facendo queste cose quotidianamente, analizzando centinaia di posizioni al giorno, a me viene facile ed è il mio grosso problema quando ho poco tempo per poter spiegare queste cose. Io ho scelto un'opzione in the money con un certo delta specifico che poi ho finanziato vedendo il costo di quella struttura in termini temporali e ho trovato... Io posso farvi una cosa che rischia 30 per farne 600. Non è un problema, la creiamo in due secondi. Però giustamente il telespettatore dice ma come l'ha creata? Vi chiede un po' di spiegazioni. Al limite ne si può parlare tranquillamente a voce. Io poi non ho dato il mio numero che è 331-5753-772 che è il telefono aziendale. Però ripeto, o mi scrivete su Telegram che per me è il modo di lavorare più adatto oppure su... Chiedete ad Aga, ecco, anche lei. Io vi voglio solo far vedere un'ultima cosa, importante, perché vi ho parlato che l'Aaron Condor è osceno. Magari chi ha scritto quel libro poi stasera mi manda qualche accidenti o... Guardate questo link che poi vi manderò nel paper con Aga. Gli americani sono molto forti. Gli americani hanno creato indici su tutte le principali strategie classiche del mercato. Allora, io adesso vi condivido una pagina internet dove c'è quel link che... Che sarebbe quello della borsa di Chicago, giusto? Sì, perché ricordiamo che le opzioni sono nate sul Ciboe. Sono nate sul Ciboe. Nel 1987 sono nate in quei momenti. Vediamo se si vede... Sì, sì. Ok, ecco, questo è il CnDR, Condor, CnDR, Condor Index. Allora, abbiamo un track record importante dal 1986 quando sono nate le opzioni del 86-87. Si vede giusto il grafico del... Si vede, è una linea verde, sì. Perfetto, ecco. Se voi mettavate 100 dollari in questo indice, cioè facendo questa strategia tutti i mesi, l'Aaron Condor è una strategia dove vendiamo call, vendiamo call, vendiamo put e compriamo le ali. È una strada di incudine. Infatti, secondo me, Iron richiama un po' quello, perché la forma è quella di un incudine. Ecco, 100 dollari oggi ne avevate 677. O 100.000 euro oggi ne avevate 678.000. Ecco, però nell'87 voi compravate un trilocale a Milano con 20 milioni. Oggi vale 250.000 euro. Si chiama inflazione. Vi faccio notare come questa bellissima strategia Iron Condor, non lo dico io, lo dice il Ciboe, dal 2008 Lehman Brothers valeva circa 700 punti. Oggi vale 6,78. Cioè, in 12 anni ha fatto 0. Anzi, ha perso soldi. Fa schifio. E negli ultimi due anni, dal 2018, da 7,77, ha perso circa un 15%. Che vuol dire? Che se una strategia come questa, le cantate dei libri, mi certifica il Ciboe che non funziona, perché dobbiamo farla noi? Perché? Perché dobbiamo farci male da soli? È 12 anni che non funziona. È due anni che fa schifo, scusate la parola, non la facciamo. Poi se voi mi dite, io faccio l'Aeron Condor, quando scende faccio le put, quando sale faccio le call. Perfetto. Ma questo si chiama trading. È un'altra cosa. Quello che dico io è che c'è di meglio di questo. C'è molto meglio. Quindi io non è che voglio demonizzare l'Aeron Condor, però vi dimostro che nei numeri non è granché. Non è granché. Qual è la migliore strategia indicizzata sui mercati americani? Al momento rimane la cover call. La cover call, ovvero long SP500, in questo caso parliamo di SP500, short delta 0.3 tutti i mesi, è al momento dal 1987 la migliore strategia presente sul mercato. Ovvio che è 12 anni che il mercato sale, ovvio che se scende perde, ma perde meno del sottostante. In questo momento è la migliore strategia che ci sia su uno strumento che negli anni ha avuto dei drawdown, ma di fatto è cresciuto come tutti gli indici. Io direi che abbiamo finito il tempo. Fabio, giocolo ne ti dici. Se uno negato in matematica, matematica che uso io è 1 più 1, io insegno a calcolare a mano il prezzo dell'opzione perché bisogna saperlo fare. È proprio la base. Ma sono cose molto semplici. Io non vi faccio vedere la derivata seconda. Se volete ve la faccio anche vedere, ma non serve a niente, non serve a niente per l'aspetto pratico. Uno più uno fa due, lì ce la si fa. Altre domande non le vedo. Sì, quella sull'Ener di Mirko, Fabio. Vendere put con strike più bassi su azioni sperando di essere assegnati? Allora, quella è una delle tecniche più utilizzate. Cioè vendere put su equity sapendo che se poi va lì bisogna avere i soldi per essere esercitati. Attenzione. Questa cosa sull'indice è devastante perché se vendo una put 4.000 e questo crolla, stiamo parlando di uno strumento che è 190.000 dollari di controvalore. Se io vendo una put o due put o tre put su Eni e ho i soldi per comprare Eni o Enel a quel prezzo, problemi non ce n'è mai. Ovvio, se il titolo fallisce, ahimè, l'indice difficilmente fallisce, il titolo sì. Però se lavoriamo su Eni, Enel, eccetera, eccetera, ci sta. Però quando si fa? Quando ce vola. Non bisogna farla sistematicamente come fosse colazione. Quando ce vola si possono vendere opzioni se vale la pena. Pensate solo a Eni quando era crollata a 6 con una volatilità a 70-80 punti percentuali. Lì si fanno i soldini. A volte non c'è questa vola e bisogna attendere il momento giusto. A volte questo momento non arriva, si cambia titolo. Nessuno ci obbliga a stare a mercato su quel singolo titolo se non c'è il movimento. Non avendo quella piattaforma quando si paga un premio putto gli hanno già dato. Ecco, prendere ora 0, 0, 20 centesimi da una putta è niente. Praticamente state prendendo i soldi delle caramelle. Bisogna prendere i primi cicciosi che hanno un certo valore, ha una distanza importante senza andare a vendere opzioni con scadenza lontanissima. Ripeto, sulle azioni si può fare però bisogna essere certi poi di avere i soldi nel caso poi si venga esercitati perché un indice difficile è che ci fa meno 20. Un'azione può fare anche meno 20. È già successo anche di più. Ok? Io direi, Aga, di chiudere perché abbiamo tirato... L'ultimissima. Giuseppe chiede dove si trovano i DPD oltre alla Bitrader. Da nessun'altra parte, Giuseppe, solo sulla Bitrader. È un brevetto loro e quindi sarebbe per forza io stesso ai miei allievi vi dico, ragazzi, il graficare è fondamentale. Se poi sentite play option, dite che avete seguito il webinar, così vi fanno... C'è anche un periodo di prova seppur breve per vedere la Bitrader. un periodo di prova e fare uno sconto. Per me, io ai miei allievi vi dico di prendere la Bitrader non subito. Dopo la seconda lezione perché all'inizio non serve. Però poi poter guardare queste cose è fondamentale. Sono piccole cifre. Se uno vuole fare questo lavoro un pochino di investimento lo dovete fare perché sono cose che tra l'altro hanno solo loro che funzionano tantissimo e io vi ho fatto vedere niente rispetto a quello che hanno. Salutiamo tutti, Aga. Scusate se sono andato... Assolutamente. contattatemi per avere il materiale completo di questa puntata di oggi e grazie tantissime Fabio di aver trovato questo tempo per noi, per condividere tutto quello che hai condiviso. Mi auguro di poterlo rifare tra un mesetto circa come hai promesso e quindi mi ripresenterò. Grazie anche a voi per averci...